In ogni stagione regolare di MLB che si rispetti agosto e settembre sono i mesi fondamentali per le squadre per provare a raggiungere i propri obiettivi E' qui nei cosiddetti Doc Dave's Summer che le squadre che devono contendere la qualificazione e playoff cominciano a giocare Ed è qui dove i valori in campo vengono definiti per davvero prima di comporre le classifiche e i tabelloni della postseason che inizierà a ottobre Dunque ci saranno due ricapitolazioni diciamo della stagione MLB ovviamente come al solito a cadenza mensile Questo riguarderà il mese di agosto e poi ovviamente a inizio ottobre presenteremo la stagione regolare che andrà a terminare Nonché il tabellone dei playoff dunque ben ritrovati in questo appuntamento con il podcast sulla MLB, la MLB Review sul mio canale sportivo E iniziamo a parlare di quello che è stato il mese di agosto dove alcune squadre hanno avuto dei crolli vertiginosi Alcune si sono confermate ma nel mese di agosto bisogna assolutamente parlare di una partita in particolare Ma non una partita bensì la partita quella che si è svolta in questo campo qui Siamo a Dyersville, Iowa Un luogo che evidentemente a chi è appersonato di baseball fa suscitare veramente tantissime emozioni È effettivamente la cittadina dove venne ambientato il film che in Italia arrivò come uomo dei sogni In inglese ovviamente Field of Dreams, film con Kevin Costner che interpretò Ray Kinsella Che in quel film era un tifoso dei Chicago White Sox E i Chicago White Sox sono i protagonisti della sfida al Field of Dreams, la prima della storia della MLB Una sfida contro i New York Yankees che è finita con un finale da sogno, in un campo da sogno Così come ha annunciato Pietro Nicolodi in telecronaca al termine del match appunto tra gli Yankees e i White Sox Peraltro è una partita che con la lord del film c'entra tantissimo appunto perché il libro originariamente da cui è tratto il film L'Uomo dei Sogni Appunto viene chiamato Shoeless Joe e parla e come dire fa come dire comparire in questo romanzo Shoeless Joe Jackson che diventò famoso non solo per essere un gran giocatore nei primi anni del Novecento Ma per essere l'unico giocatore pulito di fatto del grande scandalo degli allora Black Sox come venivano soprannominati appunto i White Sox dell'epoca Per aver venduto le World Series alla squadra avversaria Su questo c'è peraltro un altro film sul baseball molto interessante che è 8 uomini fuori Joe Jackson fu peraltro bandito dalla MLB nonostante fu l'unico a giocare letteralmente pulito A differenza di ciò che un paio di squadra che appunto vendettero quella World Series Joe Jackson compare appunto come visione a Ray Kinsella sotto inizialmente una frase molto famosa Che è se lo costruisci lui tornerà ma chi ovviamente ha visto il film sa che non sarà Joe Jackson a ritornare Bensì un'altra persona molto importante e non faccio spoiler per quei due o tre che non hanno visto il film In ogni caso era importante che i White Sox giocassero questa partita un po' per la loro Vorrei dire importante anche l'avversario di questa partita ovvero i New York Yankees Squadra che anche quella è scelta nel film e dunque obiettivamente non poteva che esserci una partita Tra Yankees e White Sox in questo campo creato ad hoc di fianco peraltro a quello del film L'Uomo dei Sogni E dunque a Dinosville, Iowa ha avuto letteralmente inizio a quello che spero sia una grande tradizione Peraltro confermata già nel 2022 in una partita in questa cittadina di 4.000 abitanti Che ha visto come dicevo prima un finale da sogno con il Walk of Home Run di Tim Mendelssohn al termine di una partita Veramente spettacolare il campo in realtà ha favorito tantissimo i fuoricampo delle due squadre Sia i White Sox sia gli Yankees hanno veramente dato continuità ai super pepi Ma al termine della partita Tim Mendelssohn ha deciso di chiuderla con appunto un Walk of Home Run da due punti Che ha veramente messo i White Sox a vincere una partita che sembrava peraltro totalmente compromessa Perché se andiamo a vedere il tabellino i White Sox erano in vantaggio fino alla parte alta del nono Quando gli Yankees con due fuoricampo uno di Aaron Judge che peraltro ne segnerà due nella stessa partita E l'altro di Giancarlo Stanton mettono 4 punti 4 sul tabellone ribaltando una partita che aveva visto i Bronx Bombers sempre in svantaggio Nonostante comunque prestazioni molto interessanti in particolare appunto dallo stesso Aaron Judge Che comunque ha completato due fuoricampo come dicevo prima Eppure in questo campo i White Sox avevano comunque dimostrato di essere comunque più sul pezzo e controllare di più la partita Anche loro per via aerea hanno dato il loro contributo perché Jimenez, Abreu e anche Sebi Zavara Di cui ho già parlato nel podcast precedente sull'MLB l'hanno sparata fuori con una certa continuità Eppure nonostante questo il team dei Bronx Bombers del New York Yankees è arrivato in vantaggio nella parte alta del nono per 8 a 7 Non c'è però a Rodis Chapman infortunato deve entrare il closer di riserva Zach Britton Che peraltro non è l'ultimo degli arrivati perché Zach Britton ha fatto già il closer in carriera Parliamo ovviamente della sua parentesi molto importante ai Baltimore Orioles Entra, viene salutato da una base per Ball concessa appunto a Zavara E poi sul primo lancio Tim Anderson la sbatte fuori 9-8 Sox, fuochi d'artificio a Divers Iowa E veramente bo game a Field of Dreams E questa è evidentemente la gioia di Tim Anderson Una volta che la palla scavalca le recinzioni e finisce letteralmente nei campi Come è giusto che sia a Dyersville Questa è la festa dei Chicago White Sox che vincono una partita veramente memorabile Una partita che io personalmente ricorderò con tanto affetto e tanto piacere Una delle partite più belle di regular season che io abbia mai visto Peraltro la partita di regular season più vista della storia è stata proprio quella a Dyersville, Iowa E non poteva che essere altrimenti Come accennato poi peraltro mentre presentavo questa partita L'anno prossimo ci sarà un altro match a Dyersville, Iowa nel Field of Dreams In quella che spero sia appunto una lunga tradizione della Major League Baseball E sarà una sfida della National League Central tra i Chicago Cups e i Cincinnati Reds In questo momento i Chicago Cups non sono una squadra in realtà che compete per il titolo A differenza dei Cincinnati Reds che possono quantomeno competere per un posto wildcard Comunque una gran bella rivalità della Central sarà presente l'anno prossimo E ovviamente sarà un'altra partita da vedere Difficilmente spettacolare come questa Ma chi lo sa nel mondo del baseball è sempre tutto in discussione Anche se c'è di fronte la prima contro l'ultima della classe Sulla festa dei White Sox possiamo dunque tornare alla classifica Aggiornata ovviamente alla nottata di ieri il 2 di settembre Dove appunto come dicevo prima tantissime squadre hanno probabilmente messo la parola fine Alla loro stagione e altre squadre hanno consolidato invece le loro posizioni in classifica E come al solito oramai partiamo dalla American League East Dove i Tampa Bay Rays hanno di fatto messo la quinta e consolidato il primo posto in testa della loro divisione 84 vittorie e 50 sconfitte per la squadra di Kevin Cash Certo hanno una striscia aperta e due sconfitti di fila ma sono 8-2 nelle ultime 10 E comunque il sistema dei Tampa Bay Rays è sempre lo stesso Lanciare tantissimi talenti finché non trovano uno buono da svendere a un'altra squadra Possibilmente magari un'altra contender e poi però nel frattempo continuare con un farm system di un certo livello E avere sempre un ricambio ai pezzi ceduti nelle altre squadre L'abbiamo visto già con l'esordio di Wander Franco e Vidal Brujan In seconda posizione ci sono gli Yankees a 67 vinte e 56 pers Sono 6 partite e mezza di distacco dai Tampa Bay Rays ma al momento gli Yankees si occuperebbero il primo posto wildcard Ma delle classifiche della wildcard ne parleremo al termine del video Terzi sono i Boston Red Sox appena dietro perché 77 vinte ma 59 perse dunque una partita e mezza di distacco rispetto ai grandissimi rivali Appena dietro ci sono i Toronto Blue Jays che magari sono un po' più staccati ma attenzione perché i Toronto Blue Jays per il futuro sono una squadra da tenere d'occhio 70-20 per le perse per i canadesi e chiudono i Baltimore Warriors che in questa division purtroppo non sono un fattore 41 vinte e 91 perse per la squadra del Maryland Passiamo invece all'American League Central con appunto i Chicago White Sox già citati con la straordinaria vittoria al Fade of Dreams Con 78 vinte e 56 perse vanno effettivamente a consolidare il primo posto della division con un nettissimo vantaggio sui Cleveland Indians a 67 vinte e 64 perse Peraltro i Cleveland Indians sono la loro ultima stagione come nickname Indians Ricordiamo che dall'anno prossimo la formazione dell'Ohio si chiamerà Guardians in onore delle due statue dei Guardiani che di fatto sorvengono la città Terza posizione per i Detroit Tigers 63 vinte e 72 perse Quarta posizione per i Kansas City Royals 59 vinte e 74 perse E chiudono i Minnesota Twins che obiettivamente l'hanno già data su ampiamente in questa stagione 58 vinte e 75 perse E' indubbio ricordare ancora una volta come i Minnesota Twins siano il flop più gigantesco di questa stagione Una squadra che è stata apposta costruita per arrivare minimo ai playoff L'obiettivo della dirigenza era le finals Obiettivamente ultimo posto della division superate da squadre che dovevano finire after the music nei pronostici E' veramente segno di quanto Minnesota abbia fatto veramente fatica Chi non fa invece nessun tipo di fatica a racimolare milestone e a racimolare traguardi E' quello bravo dei Detroit Tigers che al numero 24 parliamo logicamente di Miguel Cabrera Il Miguelon piazza il 500esimo fuoricampo della carriera nel mese di agosto In una sfida contro i Toronto Blue Jays di cui abbiamo già parlato Ed è il 28esimo giocatore della storia a raggiungere questa cifra significativa Parliamo di Miguel Cabrera uno dei giocatori più forti dell'era moderna del baseball Un prima base straordinario che comunque ha fatto in tempo a vincere con i Miami Marlins Che all'epoca in realtà erano Florida Marlins prima di andare a Detroit E' andato anche alle World Series, le ha perse purtroppo Contro i San Francisco Giants 4-0 Ma i Giants della dinastia, quelli che vincevano solamente negli anni pari Eppure in regular season Miguel Cabrera ha sempre dimostrato di essere un giocatore straordinario Lui ha fatto anche la tripla corona Quindi di certo non una cosa da poco Anzi parliamo veramente di uno che ti fa innamorare di questo sport Parliamoci chiaro, Miguel Cabrera un giocatore straordinario Peccato aver vinto molto molto meno Quando i Detroit Tigers erano una squadra letteralmente E non adesso che invece sono una squadra un po' nella terra di nessuno Comunque già il fatto che i Tigers possono vantare un record decente E' ampiamente oltre alle più rosee aspettative Considerato appunto come dicevo prima Che la formazione appunto di Detroit era considerata come tra le ultime dell'intera Lega Una partita che peraltro quella del 500esimo fuoricampo di Cabrera Che è finita ai supplementari Perché la vittoria arriva per 5-3 al termine dell'undicesimo inning Quindi il secondo supplementare per usare un termine di altri sport Una partita molto tirata dove peraltro i Detroit Tigers capitalizzano appunto col fuoricampo di Cabrera 9 valida in totale per la formazione di Detroit Una in più per i Toronto Blue Jays Ma spesso chi fa più valide può capitare che appunto non vinca Come appunto questo caso 5-3 il punteggio finale La vince il closer Gregory Soto La perde Sned con 0-2 in inglanciati Un punto guadagnato che quello è effettivamente aggesivo E c'è la prima salvezza della stagione per Joji Menez Che appunto di fatto fa il closer di riserva per i Tigers Quando appunto Gregory Soto è impegnato a vincere le partite evidentemente Come appunto in questo caso Comunque c'è da celebrare un record incredibile Ed è quello di Mighi E dunque ci voleva assolutamente anche il mio personale tributo Comunque per una squadra che sta facendo comunque molto bene per le loro potenzialità Una division dove verosimilmente i Chicago White Sox si qualificheranno come primi E difficilmente verrà fuori una wild card da questa situazione Visti appunto i record delle seconde classificate Una division invece molto più competitiva per quanto riguarda L'American League È l'American League West Dove Houston di fatto anche qui ha messo la quarta E ha superato gli Oakland Athletics In un duello che all'inizio sembrava appunto tra queste due formazioni Invece si sono diciamo iscritti alla festa i Seattle Mariners Oltremodo sorprendenti E anche per loro ci sono delle chance evidentemente di giocarsela Quanto meno per la wild card La classifica recita in questo momento Houston Astros Primi 78 vinte 55 perse Secondi gli Oakland Athletics 64 vinte 60 perse Terzi Seattle Mariners 62 vinte 62 perse Quarti Los Angeles Angels Che sono comunque migliorati rispetto agli anni passati Ma ancora una volta Sono ancora lì nel limbo E probabilmente in questo caso è frutto di una division oltremodo competitiva Non arrivano al 50% ma per di fatto due sconfitte Ed è veramente un peccato vedere la squadra di Otani E quello che doveva essere la squadra di Mike Trout Ma questa stagione Mike Trout di fatto non l'ha giocata Finire veramente in posizioni after the music Ed è molto molto strano O meglio Fa abbastanza specie Visto che appunto gli Angels avrebbero tale Shuaio Otani Che ha fatto 42 fuori campo in stagione Ed è assolutamente il leader come miglior battitore di tutta la Lega Peccato che Otani di mestiere farebbe il lanciatore E oggettivamente nell'era moderna è impossibile O molto molto difficile Vedere un giocatore che sa sia lanciare molto bene Ma che batte ancora meglio di quanto lancia Tant'è vero che spesso Quando Otani lancia Va anche a battere di fatto Togliendo quella regola dell'American League Che permette ai giocatori Diciamo Dalla panchina Di entrare al posto del lanciatore come battitore disegnato Ultima posizione in questa divisione per i Texas Rangers Che comunque erano previsti in questa posizione Hanno ceduto anche Gioigallo agli Yankees Che è stato uno dei migliori giocatori Comunque una stagione abbastanza dignitosa Per la squadra che ha ospitato Comunque le prime versioni dell'anno scorso Nel nuovo stadio Senza che peraltro i Texas Rangers giocassero Causa appunto la pandemia Covid con il pubblico Passiamo adesso all'altra Lega Dove comunque sono successe delle cose Soprattutto in una divisione che a me sta molto a cuore Quella della National League East Dove i New York Mets Che erano primi con tantissimo margine di vantaggio Addirittura erano sei le partite Se non sbaglio di vantaggio sui secondi Adesso sono arrivati al terzo posto Perdendo una marea di partite consecutive E di fatto buttando via un primato Che gestendola meglio Poteva essere comunque messo più in sicurezza Adesso primi nella National League East Sono gli Atlanta Braves Che comunque sono una squadra tutt'altro che trascurabile Anzi 71 vinte e 62 perse per la formazione della Georgia Secondi non sono neanche i Mets Ma sono i Philadelphia Philly 69 vinte e 64 perse Con due partite di distacco appunto dagli stessi Braves I Mets 66 vinte e 67 perse Si stanno un po' risollevando Ma ne riparleremo Quarti sono i Washington National 55 vinte e 77 perse Ultimi i Miami Marlins Che sono appena dietro Comunque è una discreta stagione per i Miami Marlins Che anche loro erano andati abbastanza in fondo Invece Washington ancora una volta la data su Smantellando la squadra Cedendo in particolar modo Ricordiamo Trey Turner e Max Scherzer Rispettivamente ai Los Angeles Dodgers Parentesi sulla squadra che tifo E sapete che tifo i New York Mets Erano primi e straprimi Per quanto riguarda la division National League East Che non è la più competitiva della National League Anzi Eppure i Mets pagano un mese di agosto Tragico Perché in tutto il mese estivo Ne hanno vinte soltanto 8 Delle partite giocate Eppure appunto come dicevo all'inizio I Dog Days of Summer Sono quelle dove i valori in campo Vengono fuori I Mets hanno dimostrato Di non esserci presenti sul campo In questo mese di agosto E hanno veramente perso Praticamente con chiunque Certo il calendario Per certi versi non ha aiutato Perché comunque doveva affrontare I lanciatissimi Giants I Dodgers Comunque squadre di un certo livello Però i Mets hanno perso Anche le partite Che probabilmente non dovevano perdere Adesso il calendario È un pochino più favorevole E infatti sono arrivate 4 vinte di fila E diciamo c'è una Come dire Probabilità di riuscita Comunque bassa Ma almeno c'è un tentativo Di risollevare una stagione Che era in controllo Fino ad agosto Poi da agosto Ai primi di settembre C'è stato probabilmente Un blackout Adesso Si stanno un po' risollevando La vedo comunque dura Perché in questa division Non basta evidentemente Arrivare secondi Ma bisogna assolutamente Vincerla Per arrivare Ai posti playoff E lo vediamo poi Nei record delle altre division Perché la central E la west Della national league Sono delle division Veramente folli E soprattutto Molto ma molto Competitive In particolare La national league west Di cui parleremo dopo Dove troveremo peraltro Un'altra squadra Che praticamente La sta buttando via Come qualificazione Parliamo per adesso Della national league central Dove confermiamo I sorprendenti Milwaukee brewers In testa alla division Con 82 vinte E 53 perse E già qui vediamo Un record molto superiore Alla national league east Secondi sono i sorprendenti Sensinati i reds Che comunque Non hanno mollato E di solito Queste squadre Che fanno benissimo Prima dello star game Spesso sono aspettate Al varco Dagli esperti E dagli addetti ai lavori Invece i reds Stanno comunque reggendo E avendo una stagione Assolutamente positiva Per i loro standard E molto Ma molto Oltre le aspettative A differenza Dei central league Cardinals Che sono terzi A 68 vinte E 64 perse Che erano dati Obiettivamente più su E avevano chance Di andare ai playoff E invece sono Ancora una volta Nel limbo Come probabilmente Gli ultimi anni Tranne magari l'ultimo Dove i playoff Invece ci sono andati Ma ricordiamo Erano playoff allargati Quarti sono i Chicago Cups 60-20 E 65 perse Chiudono i Pittsburgh Pirates A 48 vinte E 86 perse Comunque Più che dignitosa Per i Pirates Che hanno avuto L'onore Di schierare Due giocatori Allo star game Così come Sarà un onore Vedere un altro giocatore Iconico Di questo sport Continuare a giocare Almeno per un'altra stagione Se prima abbiamo parlato Di Miguel Cabrera E i suoi 500 super pepi Qui dobbiamo parlare Di Yadier Molina Che si estende L'anno di contratto Ulteriore Con i St. Louis Cardinals E dunque giocherà Ancora il Portoricano Fino al 2022 Ma l'idea Di il numero 4 Dei Cardinals È quello di ritirarsi Al termine della stagione 2022 Sono più di 20 anni Che vediamo Yadier Molina In MLB Sono più di 20 anni Che vediamo Molina Ricevere partite Dei Cardinals Ed è tuttora Il catcher Di Adam Waver Con cui ha lanciato Praticamente Il 66% Delle partite È un giocatore Che ti cambia Tanto gli equilibri Perché Un buon catcher È quello che sa Indirizzare Benissimo I lanci Dei lanciatori Ed è così Per Yadier Molina Che è veramente Uno scienziato Di questo sport Sia dal punto di vista Difensivo Sia dal punto di vista Offensivo Certo adesso Non più come un tempo Ma è la sua precisione Nel tenere vivi i lanci Del chiamare i lanci Ai lanciatori Che fa di Yadier Molina Uno scienziato del gioco Un giocatore iconico Che nel suo ruolo Secondo me Passa una volta Ogni tanto Per una franchigia E sono veramente contento Di dire che appunto Molina giocherà Anche l'anno prossimo Certo Poi probabilmente Se ne ritirerà Ma comunque ricordiamo Che Molina Ha più di 40 anni E calca i campi Del meraviglioso gioco Del baseball Veramente da Tantissimo tempo Peccato probabilmente Non vederla i playoff Perché abbiamo visto Che Milwaukee E Pittsburgh E Pittsburgh Magari Pittsburgh Senniati Sono ovviamente Più competitive Ma comunque È una notizia bellissima Che Molina Calcherà ancora una volta I campi Nella prossima stagione Chiudiamo la panoramica Delle classifiche Della regular season Prima di passare Alle statistiche Della wild card La National League West Che vedeva Un predominio Dei Giants Sui Dodgers Adesso Ha visto Il riaggancio Completo Della formazione Los Angelina Sui Giants Ci sono stati Anche degli sconti Diretti nel mezzo Eppure Nelle ultime dieci I Dodgers Sembrano aver trovato La quadra E voi mi direte Certo è molto fa Si è vista la campagna Acquiste che hanno fatto Eppure Per gran parte Nel mese di agosto I Giants Erano davanti Ai Dodgers Vero I Dodgers A nomi Hanno una squadra All star Sembra Per usare altri termini Il Paris Saint Germain Del calcio Che c'ha di fatto Undici figurine Di giocatori Il problema Che i Dodgers Sono una squadra Anche da quel punto di vista E comunque Stanno ingranando E infatti Nelle ultime dieci Sette vinte Tre perse E striscia aperta Di tre vinte consecutive C'è arrivato di fatto L'aggancio Ai San Francisco Giants Che comunque Stanno over performando Rispetto alle previsioni Della vigilia Con di fatto Una squadra Di over trentenni Chi l'ha buttata via Non dico come i Mets Ma comunque Probabilmente anche peggio Sono i San Diego Padres Lanciatissimi Anche loro Fino all'All Star Game Ma come diciamo sempre L'All Star Game È la cartina di torna sole Delle squadre MLB E di conseguenza San Diego Si è chiamata fuori 71 vinte 63 perse Per la formazione Di Tatis Junior E compagni Che ripeto Hanno un potenziale Incredibile Saranno la squadra Sicuramente del futuro Per il futuro Ragazzi mi raccomando Attenzione ai Padres E soprattutto Ai Blue Jays Squadra giovane E temibile Chiudono la classifica I Colorado Rockies Con 61 vinte E 73 perse Peraltro I Colorado Rockies Hanno avuto l'onore Di avere CJ Kroll Nominato giocatore del mese Chiudono Gli Arizona Diamondbacks Con 45 vinte E 90 perse I Diamondbacks Invece fanno La stagione Che si ci aspettava Quindi una stagione Di contorno Loro E i Baltimore Orioles Hanno avuto peraltro Una striscia di sconfitte Consecutive Interminabile E quindi Anche qui spiegato In parte Il disastro Della stagione In corso Va detto che Sulla carta I Diamondbacks I Diamondbacks Erano più forti Degli Orioles Questa è in generale La situazione Della regular season Ma noi adesso Dobbiamo fare Altri conti I conti che riguardano La wild card Che appunto Dà l'accesso A due squadre Ai playoff Per gareggiare Una partita sola Per poi qualificarsi Al tabellone principale Della post season 2021 E andiamo a vedere Quelle che sono Le statistiche Per quanto riguarda La wild card Partendo da come Sarebbe il tabellone E la situazione Se la regular season Finisse oggi 3 settembre Quando sto registrando Se così finisse Per quanto riguarda L'American League Ci sarebbe Tampa Bay Houston E Chicago White Sox Qualificate come Vincitori della division Rispettivamente Della East Della West E della Central In questo momento La wild card La sfida Per la wild card Sarebbe The rivalry La sfida Che tutti gli appassionati Di baseball Dovrebbero vedere Ovvero New York Yankees E Boston Red Sox Che veramente Non avrebbe Nessun tipo Di presentazione Da fare Eppure Ci sono tante altre squadre In corsa E io direi Che fino ai Toronto Blue Jays Ce la si può fare Già Cleveland Con sette partite in mezzo Rischia di essere tagliata fuori Ma semplicemente Perché ci sono tante squadre Da battere davanti Però vedere Una wild card game Tra Yankees E Boston Red Sox Vale il prezzo Di non uno Ma ben Tre o quattro biglietti Tutte le altre squadre Evidentemente Dall'Angeles In giù Sono tagliate fuori Staremo a vedere Cosa ci riserverà Il tabellone Ricordo che Il wild card game È letteralmente Una partita singola Che di fatto Va a qualificare La vincente Al tabellone principale Dove ci sono Le tre vincitrici Di division Il format di quest'anno È oltremodo complicata Perché come vediamo Abbiamo due vincitori Della West division Finisse così Ma evidentemente Mi auguro che All'inizio ottobre Non ci sia un exequo Tra questi due squadre Tra Dodgers E San Francisco Giants È evidente però Che chi finisce seconda Tra le due formazioni Avrà il primo posto Della wild card Milwaukee È l'altra vincitore Della division E terza Al momento È Atlanta Con 71 vinte Sando due perse Obiettivamente Come abbiamo detto San Francisco O Dodgers Hanno il primo posto Wild card Questo è praticamente Matematico Al momento Quelli che sarebbero Qualificati Sarebbero i sorprendenti Sensinati Reds Che si sono andati Playoff anche Lo scorso anno Ma era il format Allargato Nel format tradizionale Però non ci vanno Veramente da tempo In memore San Diego Philadelphia St. Louis Sono lì I Mets Stanno cercando Di risollevarsi Diciamo che fino Appunto ai New Yorkesi Possiamo garantire Quanto meno Delle chance Di qualificazione Alla wild card Dai colorado Rockies in giù Invece La partita Non si pone nemmeno Certo Fa un po' specie Vedere San Diego Che se la deve Lottare Con i Sensinati Reds Squadra che sulla carta Era inferiore Alla formazione Della California Ma come diciamo sempre Il baseball Riserva tantissime sorprese E un'involuzione Dei Padres Dopo lo Stargame Così evidente Evidentemente Non ce la si aspettava Più di tanto Al netto comunque Che ci sono stati infortuni Problemi covid E quant'altro Fatto sta che La wild card E la national league Sarà uno dei motivi Di interesse Evidentemente di questa Parte finale di stagione Perché appunto Manca con oggi Un mese Alla stagione De regolare A suo termine Perché appunto Da inizio ottobre Si parlerà di playoff E lì ovviamente Ci saranno più Podcast per quanto riguarda La MLB Parleremo dei tabelloni Parleremo di ogni turno Evidentemente concluso Della postseason E vedremo Chi sarà anche Il vincitore Con i miei personali pronosti Tutto questo Nell'appuntamento Del mese prossimo Mentre questo Era la MLB review Di questo mese E come al solito Fatemi sapere Se l'analisi Vi è piaciuta Oppure no Per quanto riguarda Invece La programmazione Tradizionale Sul canale sportivo Ci fermiamo Per una settimana Perché sarò In vacanza E dunque Non usciranno I racing podcast Sulla superbike A money course Sulla Formula 1 In Olanda Non ho parlato Della farsa Del gran premio Del belgio Ma appunto L'opinione mia L'avete sentita In questo momento Ci rivedremo Il 12 di settembre Alle 19 Per il gran premio D'Italia Di Formula 1 Ovviamente Nel classico Circuito Di Monza E saluto Da parte Di Matthew Torgard Ci vediamo A un prossimo video A un prossimo video